e no perché è sbagliato qualcosa e no che casino è oh ma va oh ma guarda gli uomini che si spostano fai l'uguale a loro no guarda i piedi eh brava diglielo io so con quello che è più facile perché non ci capisco eh sì almeno io guardare quei piedi lì non si capisce niente eh e vai su vai che ti facciamo una musitetta uno guarda che è il dito lì che ti filastra Gianni ma tuo papà lo guarda a YouTube no bastardo lo sai va bene destro mamma non ce la puoi fare io li ho visti fare l'inizio era da una velocità spaziale sì quelli delle nostre no no erano proprio quelli no c'è io c'è io c'è il dito eh sì io c'è il dito non è proprio c'è papà mamma stiamo a me non è più che mai io ciao